Sono qui nella sede territoriale della regione, abbiamo appena finito insieme ad altri sindaci l'incontro con i responsabili di posti italiani. Mi sono impegnati dal 6 marzo a una rimodulazione del servizio in modo tale da rispondere in maniera più consona alle esigenze da ovviare di servizio. Mi sono impegnati in una suddivisione maggiore, più ristretta delle aree del territorio, in modo tale che anche su tutto il territorio il servizio è migliore. Mi sono impegnati al rispetto dei tempi, in particolare posta 1 vuol dire la posta che deve arrivare in giornata e le raccomandate. Rispetto a posta 1 le raccomandate un monitoraggio preciso di come andranno le cose nei prossimi mesi. Posta 4 vuol dire la posta che deve arrivare in 4 giorni e riguardo per esempio alle riviste in 7-10 giorni. C'è un impegno sui tempi, c'è un impegno tra una immissione di personale maggiore, questo è già avvenuto in parte dal 20 gennaio, sulla città di Cremona, sulla città di Cremi in particolare altre emissioni nei prossimi mesi. Ci sono impegnati a un postino di quartiere, un postino di paese, cioè fidelizzare maggiormente, unire maggiormente la figura del postino al quartiere, in una città come la nostra o al paese. Ci sono impegnati a dare un riferimento diretto in particolare per i sindaci dei comuni più piccoli e ci siamo impegnati tutti insieme a monitorare la situazione, per cui fine aprile, inizio maggio ci rivedremo qua per vedere come le cose vanno. Grazie.